Alessandro Merlo, sei il manager, come si riesce ad integrare l'ambiente esterno in spazi interni? Come Cleaf abbiamo sempre sviluppato nella nostra storia quella che è la ricerca dei materiali, quindi cercare di riprodurre sui pannelli per interno design gli effetti da altri campi, che sia la natura, quindi effetti legno, oppure altri spazi dove la creatività è predominante, come la moda ad esempio, per cui utilizziamo i tessuti che proponiamo alle aziende produttrici di mobili all'interno design per dare valore alle loro creazioni e ai prodotti che vendono e utilizzano e che ad esempio si trovano al Salone del Mobile con tantissime collaborazioni e dove si trovano tutte queste novità che stiamo proponendo qua in Via Tortona. Qual è il motivo per cui cercate di riprodurre all'interno lo spazio esterno? Un contatto con la natura? Un contatto con la natura sì, per cui poi chiaramente la natura, come stiamo vedendo con il successo in questo spazio, attira l'attenzione delle persone, sollecita e stimola quelli che sono tutti i sensi e poi chiaramente per dare un valore estetico aggiuntivo, quello che sarebbe un prodotto povero come può essere una cucina, un armadio eccetera, per valorizzarlo dando calore, cromia, design e tutti i valori che fanno parte del design italiano.